La sentenza del Tar sezione staccata di Pescara che ha cancellato gli aumenti imposti agli agricoltori dal consorzio di bonifica centro e l'ulteriore conferma di una politica fallimentare del centro-destra in regione. Il comparto è fermo, la riforma dei consorsi è lettera morta. L'ospicato rilancio è stato trasformato nell'ennesima occasione per esercitare potere e occupare poltrone. E' duro l'attacco dei consiglieri del PD, Legnini presidente, Abruzzo in comune, gruppo misto nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina in regione a Pescara. Una gestione fallimentare dove si è sostanzialmente messo il bavaglio agli agricoltori abruzzesi poiché da 4 anni tutti e 5 i consorsi abruzzesi sono stati commissariati da questa giunta. Non è stato fatto nessun investimento, nessun miglioramento della situazione soprattutto circa la gestione della risorsa acqua e sappiamo quanto è fondamentale con la siccità e con la carenza idrica della risorsa acqua e quindi una gestione dei nostri consorsi. Hanno aumentato le tariffe caricando tutto sugli agricoltori e la sentenza del Tar dell'altro giorno che ha messo a nudo le decisioni di questa giunta regionale circa la gestione dei consorsi è lì a testimoniare la fallimentare politica della giunta Marsilio e circa i 5 consorsi di bonifica abruzzesi. Il capogruppo del Partito Democratico in regione Silvio Paolucci indica le soluzioni che dovrebbero essere adottate dalla regione. Sono quattro anni che chiediamo libere lezioni presso i consorsi, dare la parola ai portatori di interesse e al mondo dell'agricoltura e in secondo luogo rimodulare in modo opportuno quelle tariffe. Il risultato purtroppo di quattro anni di disastri sull'agricoltura e su questo fronte sono meno acqua ma più tariffe. È una cosa inaccettabile.